Buonasera e bentrovati a TG Mar che è in diretta questa sera a partire dalle 19 in via eccezionale per raccontarvi e vivere insieme in diretta l'arrivo al porto di Ancona della Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranea che ha salvato in mare a largo delle coste della Libia 37 migranti, oggi verranno tutti visitati, una volta espletati quelli che sono i riti del caso, poi stando a quanto riferito dalla prefettura dovrebbero rimanere nelle marche tra i 37 migranti, ricordiamo ci sono 25 adulti che saranno appunto distribuiti in centri di accoglienza nella regione in accordo con le altre prefetture, mentre i 12 minori stranieri non accompagnati trascorreranno la notte in un centro di accoglienza straordinario. Per noi sul posto, la vedo già pronta per il collegamento al porto di Ancona, c'è Laura Meda per raccontarci appunto come si sta vivendo in queste ore l'arrivo della nave, allora Laura a te. Sì, grazie Giulia, come potete vedere qui alle mie spalle fervono i preparativi, quando siamo arrivati sul posto qualche ora fa c'erano già diversi volontari, ma sono arrivati adesso molto più numerosi gli uomini della Croce Rossa e poi sono attesi anche altri volontari della protezione civile. Alle mie spalle poi in lontananza si vedono i container, i 5 container che sono stati approntati dalla protezione civile regionale per raccogliere i 37 migranti che sono in mare dal 7 gennaio e hanno fatto un viaggio veramente lunghissimo di oltre 1500 chilometri, un viaggio difficile come ci raccontano i membri dell'equipaggio, per ora solo via social, via messaggi, ma speriamo di vederli scendere insieme ai migranti. La nave in realtà era già nella nostra regione intorno all'ora di pranzo, verso mezzogiorno l'una era già a San Benedetto, poi a largo di San Benedetto, poi è risalita lungo la nostra costa e ora si trova al di là di San Ciriaco, quindi in realtà lo sbarco è imminente, si attendono però ancora le formalità per permettere lo sbarco, sappiamo che ci sono una serie di norme da rispettare per quanto riguarda i controlli, in particolare quelli sanitari, quindi è proprio questione di poco, avverrà per le 8, forse poco prima. Intanto è arrivato qui circa mezz'ora fa o poco più l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi, proprio lui abbiamo sentito su questa prima accoglienza che ha affrontato la protezione civile e anche sulla questione molto dibattuta degli sbarchi in città del nord, da Livorno, Aravenna e ora Ancona, una questione che ha fatto molto discutere. E allora sentiamolo e poi linea allo studio. Noi abbiamo avuto la richiesta da parte della prefettura di Ancona sabato scorso per allestire un punto di prima accoglienza come quello che poi vediamo qui sulla banchina 22, lo abbiamo fatto, per il resto non sta a noi regione o a noi protezione civile, diciamo così, condividere i porti o dove verranno o meno dislocate queste persone, quindi non vado oltre a questo, non ho idea neanche come saranno dislocate in serata, è la prefettura insieme al Ministero dell'Interno che decide queste situazioni. Noi come protezione civile abbiamo allestito il campo di prima accoglienza, anche molto funzionale, voglio anche ringraziare tutti i volontari che stanno per anno e che hanno operato. Senta, secondo lei questa decisione di dividere comunque l'arrivo delle navi e degli sbarchi tra i diversi porti anche molto a nord, come Livorno, come Ravenna, come Ancona, come la giudica? Io rispondo a livello personale come Stefano Aguzzi, assessore Stefano Aguzzi, secondo me è un modo per disimpegnare un pochino le parti sud del nostro paese che sono sinceramente sotto stress da anni e credo che sia opportuno una presa di coscienza, di responsabilità in maniera più diffusa in tutto il resto del paese, quindi perché no, purché si sia una redistribuzione ben seguita, ovviamente ben monitorata. Queste dunque le parole dell'assessore alla protezione civile regionale Stefano Aguzzi, raccolte dalla collega Laura Meda che abbiamo ascoltato prima in diretta appunto dalla banchina 22 del porto di Ancona dove si attende appunto l'attracco della Ocean Viking, ovviamente torneremo a collegarci con lei nell'arco di questa diretta per raccontarvi poi passo passo tutti quelli che saranno i prossimi step. Ma ricordiamo anche che al porto di Ancona è attesa per domani la seconda nave in arrivo, parliamo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere, in questo caso sono 73 i migranti a bordo che stando però agli ultimi aggiornamenti a causa del maltempo, l'arrivo appunto previsto per domani pomeriggio potrebbe slittare alla serata di domani oppure addirittura fanno sapere dalla nave non escluso che l'arrivo slitti addirittura a giovedì mattina. Ma siamo riusciti anche a raccogliere la testimonianza di uno dei 73 migranti a bordo della Geo Barents e quindi andiamo ad ascoltare insieme la storia di Osha che è un nome di fantasia, lui ha 21 anni, è partito dal Sudan e ha ripercorso appunto in un'intervista il suo viaggio tra torture e umiliazioni subite in Libia prima di salpare per mare alla volta dell'Europa. Tra le parole che emergono del suo racconto ce ne sono alcune che sono veramente molto forti, lui ha detto meglio morire tra le onde che tornare in mano ai libici e allora ascoltiamolo. In Libia la tortura ti segue dentro e fuori dal carcere o nelle stanze dove ti rinchiudono. Ci facevano mangiare pasta mischiata ai sonniferi e al mattino ti trovavi morto accanto mentre quello dietro di te era stato torturato. Un mio amico aveva sognato ad occhi aperti di andare in Europa al mattino, l'ho trovato morto e ho coperto il suo corpo. Ero pronto a morire in mare pur di non essere catturato dalla guardia costiera libica ed essere riportato indietro e subire di nuovo umiliazioni e torture. Oshek, nome di fantasia, ha 21 anni ed è uno dei 73 sopravvissuti a bordo della Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di medici senza frontiere. Salvato nelle acque a largo della Libia, nei giorni di navigazione che lo conducono in Italia, al porto di Ancona, racconta la sua storia e ripercorre il viaggio che lo ha condotto a salpare dalle coste libiche. Originario dell'Eritrea, a 4 anni Oshek è scappato con sua madre in Sudan. La speranza della donna era di salvare il figlio dal servizio militare che nel paese d'origine dei due arruola nell'esercito anche bambini di 8 o 9 anni. In Sudan il ragazzo ha vissuto per circa 13 anni con il desiderio, fin da giovanissimo, di lasciare quel paese per arrivare in Europa. Il sogno di una vita migliore però si è inevitabilmente scontrato con la dura realtà che quel viaggio rappresentava. Pensavo sarebbe stato semplice arrivare in Libia e poi in Europa. In Sudan ho fatto diversi lavori. Ho lavorato in un ristorante, in una miniera d'oro, nelle montagne. Poi ho deciso di andare in Libia e ho pagato un intermediario. Lui mi aveva detto che avrebbe pagato il trafficante, ma il trafficante mi disse che non aveva ricevuto niente e così per tre mesi ho lavorato per lui in una fattoria. Non sempre mi trattava bene e dopo tre mesi sono scappato. In Libia gli eritrei sono costretti a vivere nascosti perché se ci vedono ci rapiscono per chiedere il riscatto, convinti che abbiamo parenti in Europa. Sono stato rapito due volte ma entrambe le volte sono riuscito a fuggire. Fino al giorno in cui non ho lasciato la Libia ho subito torture e maltrattamenti e ho visto con i miei occhi persone picchiate e maltrattate. Mi hanno legato le mani e bruciato con una sbarra di ferro ardente. Ho il petto pieno di cicatrici. Dopo 15 giorni di torture, uno di questi trafficanti, vedendomi in quello stato, ha detto agli altri che sarei morto se avessero continuato a torturarmi. Altre persone che avevano già pagato il proprio riscatto hanno raccolto altri soldi e hanno pagato anche per me. Prima di prendere il mare, a Tripoli ci hanno rinchiuso in settante in una piccola stanza lontano dalla riva. La notte ci portavano fuori in gruppi di 10 persone. Ci hanno fatto portare il gombone e ce lo hanno fatto mettere in mare. Siamo saltati su, ci siamo affidati a Dio e siamo partiti. In mare il gombone si muoveva su e giù. Un uomo ha visto una barca di pescatore in lontananza e ha cominciato ad urlare che era la guardia costiera libica. Tutti sono stati presi dal panico. Avrebbero preferito morire in mare. Ora sulla nave di medici senza frontiere mi sento al sicuro ma allo stesso tempo. Non sono ancora completamente sollevato perché sono ancora in mare e ho paura di tornare indietro. Non vedo l'ora di raggiungere l'Italia e toccare terra per iniziare a dimenticare tutto quello che ho vissuto in Libia e in Africa. Questa dunque dicevamo la testimonianza, la storia di Oshek, una storia simbolo ma certamente anche esempio purtroppo di tanti alti drammi vissuti da queste persone che appunto solcano il male nella speranza di poter raggiungere l'Europa e quindi anche una vita migliore sfuggendo appunto come ci raccontava Oshek nel servizio alle torture e all'umiliazione a cui purtroppo sono stati soggetti. Ma torniamo ad occuparci della Ocean Viking e ascoltiamo anche le parole del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli che dovrebbe peraltro arrivare intorno alle 20 al porto di Ancona quindi avremo sicuramente modo anche di collegarci per ascoltare direttamente le sue parole. Alle ore 20 ricordiamo è anche previsto appunto l'attracco della nave che è ormai arrivata proprio di fronte al porto anconetano ma intanto ascoltiamo quelle che sono state le sue considerazioni appunto in questo video diffuso questa mattina tra le varie parole anche un monito non usare l'accoglienza come propaganda. Questa singola vicenda del porto di Ancona non presenta particolari specifiche criticità semmai è l'intero sistema di accoglienza che presenta criticità e che vanno affrontate le presentava anche prima anche con i precedenti governi e continua a presentarle queste criticità anche con questo governo. Il tema è serio e complicato e va affrontato nelle sedi istituzionali ed evitando però di usarlo da parte di tutti per propaganda a buon mercato. Noi a questa non ci presteremo mentre daremo tutto il nostro contributo perché le cose funzionino a meglio. Che il tema dell'accoglienza non venga usato per propaganda politica a buon mercato dopo aver espresso nei giorni scorsi dubbi sulla scelta del porto di Ancona il sindaco della città d'Orica Valeria Mancinelli torna a insistere sull'argomento pur assicurando che la città è pronta. I 110 migranti della Ocean Viking e della Geo Barents riceveranno la prima ospitalità nei centri di accoglienza del territorio ma non è detto che questa accoglienza, spiega la sindaca, avvenga ad Ancona. Gli adulti potranno essere dirottati in tutta la regione, i minori verranno ospitati in strutture della provincia. Questo per la prima accoglienza. Poi si attendono le determinazioni del Viminale. E cide il Ministero degli Interni perché il nostro sistema di accoglienza funziona così. È il Governo centrale che finanzia e gestisce i centri di accoglienza in tutta Italia e di volta in volta destina i richiedenti asilo nei centri dove ci sono disponibilità di posti. Non c'è coincidenza tra l'uomo di sbarco e l'uomo di accoglienza. Esempio, alcuni di quelli sbarcati a Livorno, diversi di quelli sbarcati a Livorno qualche settimana fa il Ministero li ha destinati proprio a centri di accoglienza in provincia di Ancona. Nella città di Ancona, attualmente, ormai da tempo, sono ospitati nei diversi centri di accoglienza circa 400 persone, questo prima della Regno Verenai. Ecco, chiaramente l'accoglienza è un tema importante che sta tenendo banco in queste ore perché ovviamente al di là dello sbarco poi si dovrà capire effettivamente come dove accogliere queste persone. Lo dicevamo in apertura a tutti e 37 i migranti che sbarcheranno questa sera dalla Ocean Viking stando a quanto riferito dalla Prefettura dovrebbero appunto rimanere tutti nelle Marche. I 25 adulti saranno distribuiti in centri di accoglienza nella Regione in accordo con altre Prefetture mentre i 12 minori stranieri non accompagnati per questa sera trascorreranno la notte in un centro di accoglienza straordinario, una struttura ricettiva individuata dalla Prefettura e poi invece a partire da domani andranno in centri per minorenni nelle Marche in base alla disponibilità di posti. Invece si attende ancora di capire, come dicevamo anche prima in apertura, quali saranno le destinazioni dei 73 migranti in arrivo domani o al più tardi, come dicevamo, nella giornata di giovedì. Questo ovviamente perché dipende anche dalle condizioni meteo in cui queste navi si trovano a dover navigare appunto, dicevamo, o nella tarda giornata di domani oppure nella prima giornata di giovedì. Ma andiamo invece a sentire anche le parole del Prefetto di Pesaro Urbino, il neoprefetto Emanuela Saveri Greco, che ha assunto ufficialmente ieri l'incarico e che oggi ha incontrato la stampa. Ovviamente un pensiero è stato rivolto anche nell'arco della conferenza stampa proprio a questo e quindi sentiamo meglio, perché lei ha detto al momento non abbiamo ricevuto comunicazioni sui riparti dei naufraghi, attendiamo notizie da Ancona, ma se dovesse servire, dice, siamo pronti a garantire il nostro contributo. E allora, ascoltiamo. Ok, allora abbiamo qualche problema, intanto andiamo avanti e vediamo appunto di capire effettivamente anche quella che è la situazione al porto, alla banchina 22 in questo momento, perché come dicevamo la nave è ormai arrivata al porto di Ancona, insomma di fronte al porto d'Orico. Tra breve, peraltro, abbiamo modo sicuramente di ricollegarci anche con la collega Laura Meda che è lì per noi e che sta seguendo appunto tutte le operazioni. La nave chiaramente deve ancora attraccare, poi, come abbiamo detto, sarà possibile. Ecco, sì, ci siamo, possiamo collegarci, mi dicono, e allora proviamo a vedere se riusciamo appunto a collegarci. Ci colleghiamo tra poco, vedo che non siamo ancora pronti, allora cerchiamo di recuperare intanto il servizio del prefetto di Pesaro, appunto, che come dicevamo si è insediato da poco, la neoprefetta di Pesaro Urbino, Emanuela Saveri Greco, e che nell'arco della conferenza stampa di presentazione, appunto, ha detto al momento proprio sullo sbarco non abbiamo ricevuto comunicazioni su riparti dei naufraghi, ma attendiamo notizie da Ancona, se dovesse servire, dice, siamo pronti chiaramente a garantire il nostro contributo. Non sappiamo ancora il piano di riparto, ci perverrà dal prefetto di Ancona, non sappiamo se saremo chiamati anche noi a dare il nostro contributo, in caso positivo lo daremo, come abbiamo sempre fatto. Lo abbiamo sempre fatto con i prefetti nelle province in cui ho lavorato, come vicario, come capo di pebbinetto, che è stato quello di gestire il fenomeno e non di subirlo, in modo che ci sia anche quella integrazione di cui molte volte si parla, ma che raramente si riesce ad ottenere. Porto aperto ad Ancona per lo sbarco dei 110 migranti salvati dalle navi Ocean Viking e Geobarens, porte aperte a Pesaro per l'eventuale seconda accoglienza dei naufraghi. Lo si apprende dalle parole del neoprefetto della provincia di Pesaro Urbino, Emanuela Saveria Greco, che ha assunto l'incarico ufficialmente ieri, 9 gennaio. Greco, nativa di Terravecchia Cosenza, arriva dalla prefettura di Pisa dopo un percorso accademico e professionale lungo, importante e articolato in tutta Italia. Nella fitta agenda già effettuate riunioni con le istituzioni pesaresi, domani toccherà quelle con le autorità ducali. e si va avanti con visite da programmare in tutti i comuni, a partire da quelli alluvionati. Intanto, Greco fissa i primi obiettivi. Continuerà ad essere massimo l'impegno proprio per far sì che i cittadini possano sentire di vivere serenamente nel proprio territorio. Esiste un problema di infiltrazioni mafiose nella provincia di Pesaro Urbino? Non mi sentirai al momento con le informazioni e le notizie che ho ad oggi di poter dire che c'è un problema mafia in questa provincia anche perché io ho svolto parte della mia carriera in territori molto molto delicati quale è Vibo Valencia e quindi parliamo di cose molto diverse. Il Ministero tiene in grande considerazione questa provincia? Assolutamente sì, tiene in grande considerazione questa provincia sia per la prefettura che è una delle prefetture più belle d'Italia ma anche proprio come territorio. C'è veramente una grande attenzione, sì. E queste dunque le parole del neoprefetto di Pesaro Urbino ma adesso invece torniamo al porto di Ancona perché vedo pronta a collegarsi con noi la collega Laura Meda insieme a un operatore della Croce Rossa che adesso Laura appunto ci racconterai si occuperà di tutti quelli che sono gli screening sanitari a cui verranno sottoposte queste persone una volta scese dalla nave. Allora raccontaci meglio come si sono organizzati. Esatto, proprio così Giulia. Noi siamo qui con Emanuele Baio delegato regionale per l'emergenza della Croce Rossa e a lui chiediamo innanzitutto come funziona qui la macchina quanti sono i mezzi e le persone della Croce Rossa impegnate qui oggi e anche poi domani per il prossimo arrivo o eventualmente dopo domani a Dancona e come funziona questa macchina dell'accoglienza. Per noi Croce Rossa ci è stato chiesto il supporto da parte della prefettura che l'abbiamo messa a disposizione al sistema dell'accoglienza nello sbarco e oggi siamo qui per appunto favorire l'accoglienza dei migranti dove con 41 operatori della Croce Rossa daremo la prima assistenza che va al di fuori al sistema prefettizio con coperte, tè caldo e materiale insomma per riscaldarli o altro materiale vestiario e in più c'è la parte sul supporto sanitario comunque Croce Rossa con le ambulanze e medici e infermieri che sono a disposizione dell'USMAF o della sanità pubblica. Ecco come funziona proprio passo dopo passo questi 37 migranti a breve verranno accolti poi insomma scenderanno dalla nave che li ha portati fin qui, cosa accadrà loro? Beh credo che la prefettura insieme alla questura e la parte sanitaria saliranno a bordo della nave faranno prima un censimento sanitario e poi l'identificazione e le procedure per appunto capire e comprendere come trattare queste persone dal punto di vista se devono essere accolte sia dal punto di vista ospedaliero o altro tipo di genere. Ovviamente hanno fatto un viaggio duro è stato detto, non so vi è stato detto dalla Ocean Vikings se ci sono situazioni per cui siete pronti magari a intervenire subito comunque sono persone che hanno affrontato questo mare dal 7 gennaio? Sì, credo che la sanità ha già avuto tutte le opportunità, conoscenze dello stato di salute dei naviganti e comunque non risultano gravi patologie e quindi credo che stiamo, insomma dovrebbe essere tutto tranquillo speriamo, insomma per cercare di farli stare più tranquilli possibili e cercare di dare la massima dignità poi esami di rito eventuali prassi per covid eventuali vaccinazioni e poi ci sarà anche un'attività ulteriore da parte vostra della Croce Rossa Sì, fondamentalmente la Croce Rossa per noi è importante svolgere questo ruolo più per lo post-sbarco dove i nostri servizi la nostra centrale di risposta in qualche modo si mette a disposizione anche per aiutare queste persone che potrebbero tornare, ritornare insomma cercare i propri familiari o altri tipi di bisogni per essere insomma integrati insomma all'interno della nostra comunità Ecco, è un'attività che voi fate Avete abitualmente, quante persone avete già aiutato diciamo dall'inizio dell'anno ci sono stati molti sbarchi già sul nostro territorio? Beh, grandi sbarchi non mi sembra che ci siano stati nella regione Marche e comunque Croce Rossa è sempre a disposizione di chi ha bisogno sia a livello nazionale che internazionale come anche la guerra in Ucraina insomma stiamo dando delle grandi risposte come Croce Rossa italiana Ovviamente sbarchi sul territorio italiano qua parliamo della situazione marchigiana per Ancona è una novità quindi siete pronti ad accoglierli per l'attività ulteriore dicevate magari c'è chi ha un numero di telefono chi insomma cerca di ricongiungersi questa è una cosa importante per non lasciarli soli Sì, certo è la missione di Croce Rossa è ovvio che il sistema prefettizio ministeriale comunque si occupa della vera accoglienza insomma di queste persone e noi ovviamente andremo a lavorare su quelle che sono invece i bisogni proprio della persona per rendere più umano questo aspetto di questo viaggio di questa ricerca di una pace insomma Grazie grazie a Emanuele e anche a tutto il personale della Croce Rossa che sta lavorando qua e per ora restituiamo la linea allo studio in attesa di ulteriori interventi o di novità circa lo sbarco Grazie grazie a te Laura ovviamente poi ti daremo nuovamente la linea anche perché come ricordavamo prima si attende anche per le 20 oltre ovviamente all'arrivo della nave in porto anche l'arrivo del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli quindi avremo modo anche di ascoltare le sue parole anche se parte ovviamente delle sue riflessioni le abbiamo già sentite prima attraverso un nostro servizio ma torneremo appunto a darti la linea nel frattempo però cambiamo un attimo pagina per raccontare anche un altro aspetto che è quello della ricostruzione post sisma in particolare ci troviamo a un momento di svolta proprio per quello che riguarda il futuro della struttura commissariale tempo di svolta e anche di bilanci perché il commissario della ricostruzione post sisma del centro Italia Giovanni Legnini passa il testimone al senatore Guido Castelli e ha fatto appunto il bilancio del lavoro svolto in questi anni nell'arco di una conferenza stampa tra le sue parole anche sarò il primo tifoso della ricostruzione allora facciamo il punto sono e sarò il primo tifoso del successo della ricostruzione nei prossimi nei prossimi anni Giovanni Legnini saluta e ringrazia tutti gli attori della ricostruzione durante il passaggio di consegna al neocommissario straordinario per la ricostruzione post sisma del centro Italia Guido Castelli 28.000 richieste di contributi dai privati per 10 miliardi di euro oltre 15.000 decreti di contributo concessi per oltre 5 miliardi di euro 2.500 interventi pubblici finanziati con 3 miliardi e mezzo tra cui 450 scuole per un miliardo e mezzo di euro 1.251 gli interventi sulle chiese e gli edifici di culto finanziati per 800 milioni alcuni numeri del bilancio di mandato sono stati poco meno di 3 anni molto intensi nei quali abbiamo tutti messo passione e dedizione ci siamo impegnati in questo percorso gli ostacoli che abbiamo incontrato sono stati per davvero molto rilevanti la pandemia l'esplosione dei prezzi di mercato l'irruzione del 110% su tutto il territorio nazionale poi il cane energia siamo riusciti a far aprire 11.500 cantieri privati a riconsegnare 20.000 abitazioni o aziende ai cittadini che avevano subito il danno ma moltissimo c'è ancora da fare io credo che proprio della capacità di mantenere questa forma di interlocuzione di raccolta paziente ma anche operosa e determinata di consenso sulle scelte d'affari sia stato il segreto insomma di questi esiti che sono stati descritti in precedenza è come se la ricostruzione avesse quel sistema operativo che va mantenuto rafforzato se possibile sicuramente sono stati mesi intensi impegnativi di collaborazioni le difficoltà purtroppo nella ricostruzione non sono mancate sicuramente non mancheranno è una fase controversa e complessa che deve preludere per forza alla rinascita di questi territori che sono centrali bellissimi a cui tutti noi abbiamo dimostrato di tenere tantissimo il 2023 si porta dietro anche vecchi problemi dallo scorso anno tra questi c'è quello dei rincari e i conti fatti da di Consum non tranquillizzano addirittura dice l'associazione di consumatori quest'anno spenderemo 2300 euro in più il 2023 è iniziato già con la stangata degli aumenti sui carburanti perché è venuto meno la riduzione sulle accise e quindi abbiamo già visto gli aumenti alla pompa di benzina questo chiaramente avrà delle ripercussioni non solo sui trasporti ovviamente per il consumatore ma anche sui rincari nei prodotti finali quindi per i settori dall'alimentare ai prodotti e beni e servizi per la casa per l'igiene personale e anche per i viaggi per Adiconsum il calcolo di quanto incideranno i rincari del nuovo anno nelle nostre tasche è presto fatto il consumatore si ritroverà purtroppo a dover sborzare nel 2023 si stimano circa 2300 euro in più all'anno per le spese relative appunto all'acquisto di beni e servizi di necessità carburante pedaggi autostradali trasporti il famoso carrello della spesa senza dimenticare il caro energia con una bolletta che non è destinata affatto a scendere i rincari in bolletta li abbiamo già visti a dicembre per esempio con il gas e questo trimestre primo trimestre dell'anno la spesa è leggermente contenuta ma si prevedono ulteriori aumenti già a partire da marzo quando probabilmente verranno meno le misure tampone che sono state adottate sinora dell'azzeramento degli oneri generali di sistema nella voce della bolletta questo inciderà per percentuali elevati diciamo intorno anche al 20% sulla spesa complessiva annuale per i consumatori quindi chiaramente l'impatto dei rincari si sentirà ancora più forte già da aprile questo dunque è il tema dei rincari ma torniamo ora a parlare dell'attracco della Ocean Viking al porto di Ancona come dicevamo in apertura si attende l'arrivo della nave di SOS Mediterranea appunto allo scalo Dorico è ormai arrivata di fronte alle coste anconetane abbiamo ascoltato le testimonianze di chi sta lavorando lì ormai da giorni per quello che riguarda l'allestimento ovviamente di tutti i padiglioni insomma di tutte le attrezzature necessarie per questo primo screening sanitario a cui verranno poi sottoposti i migranti una volta scesi dall'imbarcazione prima o poi come abbiamo detto di essere ridistribuiti nei centri di accoglienza a livello regionale lo ricordiamo sono 37 i migranti in arrivo questa sera mentre se ne attendono 73 in arrivo con la seconda nave la Geo Barents che appunto dovrebbe fare scalo ad Ancona nella tarda serata di domani o al più tardi nella prima mattinata di giovedì questo ovviamente perché come ci hanno fatto sapere dalla nave le condizioni meteo di navigazione sono difficili e quindi si dovrà capire se effettivamente la data prevista per l'attacco potrà essere rispettata e quindi se potranno arrivare per la giornata di domani oppure al più tardi appunto per la giornata di giovedì ovviamente l'arrivo al Porto Dorico ha suscitato le proteste lo abbiamo visto in apertura ce lo raccontava la collega Laura Meda sul posto per noi per seguire appunto l'intera vicenda hanno suscitato polemiche da parte delle ONG perché appunto dicono siamo stati costretti a fare più di 1500 km per poter fare porto tra l'altro ci fanno sapere che dalle navi alcune persone si trovano anche in condizioni di salute critiche c'è chi anche ha subito ossioni da carburante quindi ovviamente poi si dovrà valutare si valuterà nell'arco della serata anche quelle che sono le condizioni proprio con questi screening sanitari che verranno fatti ma è tanto anche il lavoro dei volontari della protezione civile abbiamo ascoltato anche le parole dell'assessore della protezione civile regionale Stefano Aguzzi presente al porto che avremo modo poi anche di riascoltare però nel frattempo vedo che la collega Laura Meda è pronta per noi con un collegamento in particolare perché come dicevamo la macchina dei volontari che ha avuto modo di lavorare in queste ore in queste giornate è veramente grande e allora ci colleghiamo Laura con te con il tuo ospite lo lascio presentare a te per raccontarci anche questo aspetto della vicenda quando vuoi sì grazie Giulia qui vedete già Lorenzo Mazzieri referente provinciale del volontariato per la provincia di Ancona della protezione civile ovviamente con lui facciamo un passo indietro perché l'accoglienza non inizia oggi né domani è iniziata almeno tre giorni fa qual è stato il vostro lavoro qui ad Ancona? Il nostro lavoro ad Ancona è stato un lavoro di logistica un lavoro di preparazione naturalmente coordinato con tutti i nostri funzionari il capo dipartimento dottor Stefoni e tutti gli altri funzionari perché abbiamo dovuto vedere preparare quello che vedete alle nostre spalle tutta la logistica con i container con le segreterie con gli uffici mobili con anche quello che sarà le prime visite quindi l'ambulatorio mobile della protezione civile in collaborazione con Croce Rossa abbiamo stabilito con le autorità portuali come doveva essere fatto il campo quindi circa 35 volontari impegnati al giorno con i mezzi per allestire il nostro campo all'interno oggi siamo qui allo sbarco per poi naturalmente supportare la prefettura e tutti gli enti di volontariato che sono qui per accogliere i ragazzi quindi distribuire quello che ci sarà da distribuire coperte tutto quello che ne avranno bisogno per poi naturalmente passarli alla Croce Rossa che sono comunque i sanitari che se ne prenderanno cura ecco voi non siete nuovi a questo genere di lavori però siete nuovi a uno sbarco per quanto riguarda almeno la nostra regione la città di Ancona cosa vi aspettate di trovare? Cosa ci aspettiamo di trovare? Troveremo tanta gente comunque che sono tanti giorni che sono in mare saranno anche un po' disperati disidratati comunque anche frastornati da questi ulteriori giorni di navigazione che li portano ad Ancona che comunque è una città che per eccellenza è stata sempre a braccia aperte con tutti ricordiamo i vari terremoti ricordiamo tante e tante calamità che sono successe nel nostro territorio quindi Ancona li accoglie a braccia aperte noi siamo preparati perché la protezione civile comunque è preparata a queste emergenze per noi è la prima volta di uno sbarco ma con tanta ansia ma con tanta attenzione riusciremo a dare sicuramente una valida mano a questi poveri ragazzi che arrivano qui senza niente e naturalmente con poco e ringraziamo allora Lorenzo Mazzieri referente provinciale di Ancona per la protezione civile ringraziamo lui e tutti gli altri che lavorano qui per il loro impegno intanto qualcosa forse si muove abbiamo visto passare dei sanitari magari ancora presto ma di sicuro non manca molto quindi per ora linea allo studio ma ci risentiremo appena ci sono novità grazie grazie Laura allora ti ridaremo la linea non appena ci aggiornerai sull'arrivo della nave intanto andiamo avanti perché abbiamo appena ascoltato appunto le parole del referente per quello che riguarda la protezione civile regionale abbiamo visto anche quella che è stata l'accoglienza preparata in questi giorni dai volontari della Croce Rossa perché appunto come giustamente sottolineavi tu in apertura l'accoglienza non arriva non comincia dallo sbarco ma è già cominciata giorni fa proprio per prepararsi ad accogliere al meglio queste persone non solo per ridistribuirle poi appunto questi primi 37 migranti che arriveranno questa sera all'interno della regione Marche nelle sedi che sono state adibite appunto dalla prefettura tra loro lo ricordiamo ci sono anche dei minori ma poi ovviamente accoglierli poter garantire loro le cure necessarie soprattutto perché appunto lo ricordiamo vengono da diversi giorni di navigazione oggi siamo al 10 gennaio queste persone sono state salvate alle prime ore del 7 di gennaio e quindi è chiaro che anche da parte loro c'è ovviamente molto desiderio di scendere di poter finalmente toccare la terraferma avremo modo ovviamente di ridarti la linea però io intanto riascolterei le parole dell'assessore regionale alla protezione civile Stefano Guzzi che abbiamo avuto modo di intervistare e di ascoltare in apertura di questa edizione straordinaria del telegiornale per fare il punto proprio sulla logistica sulla prima logistica e quindi su le prime fasi di smistamento di queste persone ovviamente di accoglienza sentiamo noi abbiamo avuto la richiesta da parte della prefettura di Ancona sabato scorso per allestire diciamo un punto di prima accoglienza come quello che poi vediamo qui sulla banchina 22 lo abbiamo fatto per il resto non sta a noi regione o a noi protezione civile diciamo così condividere i porti o dove verranno o meno dislocate queste persone quindi non vado oltre a questo non ho idea neanche come saranno dislocate in serata è la prefettura insieme al ministerio dell'interno che decide queste situazioni noi come protezione civile abbiamo allestito il campo di prima accoglienza anche molto funzionale voglio anche ringraziare tutti i volontari che stanno per anno che hanno operato senta secondo lei questa decisione di dividere comunque l'arrivo delle navi e degli sbarchi tra i diversi porti anche molto a nord come Livorno come Ravenna come Ancona come la giudica? Io rispondo a livello personale come Stefano Guzzi assessore Stefano Guzzi secondo me è un modo per disimpegnare un pochino le parti sud del nostro paese che sono sinceramente sotto stress da anni e credo che sia opportuno una presa di coscienza e di responsabilità in maniera più diffusa in tutto il resto del paese quindi perché no purché si sia una redistribuzione ben seguita ovviamente ben monitorata queste dunque le parole dell'assessore alla protezione civile regionale Stefano Guzzi ma sganciamoci ancora una volta da questo tema avremo modo ovviamente di tornare a raccontare l'attacco della nave della Ocean Viking al porto di Ancona ma adesso appunto cambiamo un attimo pagina e parliamo di scuole in particolare per la riapertura delle scuole di Amicis di Ancona manca ormai poco il restyling prosegue appunto per garantire quanto prima la riapertura vediamo ruspe e scavatori all'opera fervono i lavori e le ultime sistemazioni poi le scuole di Amicis di Ancona potranno riaprire agli studenti il giorno giusto doveva essere il 9 gennaio ma i consueti contrattempi di un cantiere hanno consigliato l'amministrazione comunale di posticipare la data della nuova inaugurazione corre però il restyling per il quale sono stati spesi oltre 2 milioni di euro grazie al PNRR è stato fatto un lavoro enorme in questo cantiere ovviamente dal punto di vista della ristrutturazione della scuola per adeguarla alle normative più recenti però è stato fatto in particolare in questi ultimi giorni un lavoro a ritmo serrato veramente si è lavorato fino mattina a pomeriggio fino a sera anche il sabato tutta la pulizia di tutte le aule e sono 14 stanze è una scuola enorme le vetrate quindi insomma un grosso grosso lavoro poi il 3-4 gennaio sono stati consegnati gli arredi nuovi e quindi banchi 280 banchi sedie cattedri armadietti fissato a muro quello che va fissato a muro adesso siamo a buon punto si stanno terminando gli ultimi particolari e si sta lavorando adesso soprattutto ai locali della mensa perché è necessario ovviamente qui c'è un corso a tempo pieno c'è una scuola ci sono 2-3 stazioni di scuola di infanzia e quindi è necessaria la mensa la Diamicis è un punto di riferimento dell'intero quartiere tanto che il comune ha deciso di allestire una mostra fotografica l'iniziativa si chiama mi ricordo la Diamicis l'invito agli anconetani che hanno frequentato nel corso degli anni questo istituto è di consegnare una foto all'ufficio servizi scolastici educativi del comune è una scuola del 1926 io sono andata a scuola qui e quindi tra l'altro c'è un sentimento forte del quartiere verso questa scuola che ha visto passare tanti anconetani ed è una scuola che porta ovviamente anche movimento quindi per i negozi una scuola da sempre vivacità in un quartiere Nell'ultimo weekend appena trascorso si sono concluse tutte le iniziative natalizie Monte San Martino ha ospitato l'ultima rappresentazione del presepe vivente una novità per il piccolissimo borgo maceratese Il primo vero successo è stata la comunità perché ci siamo ritrovati più di 100 persone di Monte San Martino figuranti per fare questo presepe Un successo di comunità così lo ha definito il sindaco Pompei la prima edizione del presepe vivente di Monte San Martino ha raggiunto il suo obiettivo con un notevole riscontro di visitatori Nella due giorni del 6 e 7 gennaio infatti molti hanno visitato il piccolo borgo maceratese trasformato per l'occasione nello scenario della natività di 2000 anni fa Michele Cecchi della Proloco Locale è stato il principale artefice e ideatore della sceneggiatura Abbiamo aperto il percorso con una cosa un po' diversa dove le persone potevano cambiare i soldi in scudi con cui potevano entrare nelle locande per comprare da bere da mangiare e poi arrivava l'annunciazione poi si passava dietro il convento delle monache dove c'erano gli animali la parte contadina del paese poi si tornava verso piazza dove attraverso le vie in cui c'erano i vari lavori il vario mercato altri animali fino a arrivare alla corte di Rode e per un fine la natività qui in piazza cuore pulsante e fulcro della comunità è senza dubbio il convento delle benedettine suore di clausura ma sempre attive nel dare il loro generoso supporto veramente teniamo tanto al nostro paese e questo ci onora abbiamo avuto anche la visita del nostro arcivescovo che ha confermato la validità di questa esperienza di questa bella testimonianza di unità di armonia e di collaborazione e torniamo ora a parlare dello sbarco atteso in queste ore della Ocean Viking che trasporta a bordo 37 migranti salvati dalla nave della ONG SOS Mediterranea alba del 7 gennaio scorso recuperati coste libiche vediamo magari se possibile anche le immagini che ci arrivano in diretta dal porto sappiamo che con noi c'è collegata la collega Laura Meda che avremo modo poi di risentire nell'arco di questa diretta che ci ha raccontato anche attraverso le testimonianze delle tante persone presenti questa sera alla banchina 22 abbiamo prima le parole dell'assessore alla protezione civile regionale Stefano Guzzi ma anche volontario della Croce Rossa che lavorerà subito dopo lo sbarco dei migranti allo screening appunto sanitario a cui verranno sottoposte queste persone e poi ancora la grande macchina della protezione civile che ha coordinato in questi giorni ha preparato l'accoglienza per queste persone che resteranno nelle Marche andranno in centri di accoglienza regionali tra i 37 migranti lo ricordiamo ci sono anche 12 minori stranieri non accompagnati che per questa sera saranno ospitati in una struttura ricettiva scelta dalla profettura di Ancona ma poi a partire da domani andranno in centri per minorenni nelle Marche in base alla disponibilità di posti peraltro la Ocean Viking questa sera riporterà a casa anche una concittadina che ha la sua prima esperienza con la ONG SOS Mediterranea si tratta di un'ostetrica anconetana di 29 anni Lucia che appunto fa parte dell'equipaggio che ha assistito queste persone lo ricordiamo tra di loro ci sono anche persone che presentano ustioni ustioni da carburante quindi ecco è chiaro che sicuramente si tratta di persone provate non solo chiaramente dal punto di vista fisico ma anche psicologico per la traversata chiaramente a cui hanno deciso di prendere parte ovviamente partendo dalle coste della Libia per raggiungere l'Italia per raggiungere l'Europa per raggiungere e avere soprattutto un futuro questo ovviamente è il pensiero l'obiettivo comune dei dei naufraghi della Ocean Viking dei 37 naufraghi della Ocean Viking ma anche dei 73 che continuano a navigare invece verso il porto di Ancona a bordo della Geo Barents che lo ricordiamo dovrebbe attraccare invece allo Scalo Dorico nella serata di domani o al più tardi nel primo mattino di giovedì questo perché come fanno sapere appunto dalla nave dei medici senza frontiere in questo caso le difficoltà sono determinate da quelle che sono le condizioni di navigazione quindi si dovrà capire effettivamente se si riuscirà a mantenere la data prevista inizialmente appunto per l'arrivo nella giornata di domani oppure no sicuramente avremo informazioni poi nell'arco di questa diretta però io tornerei ad ascoltare quelle che sono state anche le parole di uno dei naufraghi le parole raccolte da medici senza frontiere di questo giovanissimo ragazzo di origini eritre lui ha 21 anni è partito dal Sudan e ha raggiunto poi la Libia appunto per poter poi salpare alla volta dell'Europa e allora ascoltiamo le sue parole in Libia la tortura ti segue dentro e fuori dal carcere o nelle stanze dove ti rinchiudono ci facevano mangiare pasta mischiata ai sonniferi e al mattino ti trovavi un morto accanto mentre quello dietro di te era stato torturato un mio amico aveva sognato ad occhi aperti di andare in Europa al mattino l'ho trovato morto e ho coperto il suo corpo ero pronto a morire in mare pur di non essere catturato dalla guardia costiera libica ed essere riportato indietro e subire di nuovo umiliazioni e torture Oshek nome di fantasia ha 21 anni ed è uno dei 73 sopravvissuti a bordo della Geo Barents la nave di ricerca e soccorso di medici senza frontiere salvato nelle acque a largo della Libia nei giorni di navigazione che lo conducono in Italia al porto di Ancona racconta la sua storia e ripercorre il viaggio che lo ha condotto a salpare dalle coste libiche originario dell'Eritrea a 4 anni Oshek che ha scappato con sua madre in Sudan la speranza della donna era di salvare il figlio dal servizio militare che nel paese d'origine dei due arruola nell'esercito anche bambini di 8 o 9 anni in Sudan il ragazzo ha vissuto per circa 13 anni con il desiderio fin da giovanissimo di lasciare quel paese per arrivare in Europa il sogno di una vita migliore però si è inevitabilmente scontrato con la dura realtà che quel viaggio rappresentava pensavo sarebbe stato semplice arrivare in Libia e poi in Europa in Sudan ho fatto diversi lavori ho lavorato in un ristorante in una miniera d'oro nelle montagne poi ho deciso di andare in Libia e ho pagato un intermediario lui mi aveva detto che avrebbe pagato il trafficante ma il trafficante mi disse che non aveva ricevuto niente e così per tre mesi ho lavorato per lui in una fattoria non sempre mi trattava bene e dopo tre mesi sono scappato in Libia gli eritrei sono costretti a vivere nascosti perché se ci vedono ci rapiscono per chiedere il riscatto convinti che abbiamo parenti in Europa sono stato rapito due volte ma entrambe le volte sono riuscito a fuggire fino al giorno in cui non ho lasciato la Libia ho subito torture e maltrattamenti e ho visto con i miei occhi persone picchiate e maltrattate mi hanno legato le mani e bruciato con una sbarra di ferro ardente ho il petto pieno di cicatrici dopo 15 giorni di torture uno di questi trafficanti vedendomi in quello stato ha detto agli altri che sarei morto se avessero continuato a torturarmi altre persone che avevano già pagato il proprio riscatto hanno raccolto altri soldi e hanno pagato anche per me prima di prendere il mare a Tripoli ci hanno rinchiuso in settante in una piccola stanza lontano dalla riva la notte ci portavano fuori in gruppi di 10 persone ci hanno fatto portare il gombone e ce lo hanno fatto mettere in mare siamo saltati su ci siamo affidati a Dio e siamo partiti in mare il gombone si muoveva su e giù un uomo ha visto una barca di pescatore in lontananza e ha cominciato ad urlare che era la guardia costiera libica tutti sono stati presi dal panico avrebbero preferito morire in mare ora sulla nave di medici senza frontiere mi sento al sicuro ma allo stesso tempo non sono ancora completamente sollevato perché sono ancora in mare e ho paura di tornare indietro non vedo l'ora di raggiungere l'Italia e toccare terra per iniziare a dimenticare tutto quello che ho vissuto in Libia e in Africa e questa dunque la testimonianza di uno dei 73 migranti a bordo della Geo Barents che attraccherà appunto nella serata di domani al porto di Ancona ma torniamo intanto alla banchina 22 vedo collegata con noi Laura Meda per aggiornamenti o comunque per raccontarci effettivamente quello che sta accadendo in queste ore perché c'è attesa per l'attacco della nave della Ocean Viking L'attesa ovviamente cresce c'è un po' di movimento abbiamo visto poco fa passare dei sanitari tutti insomma vestiti con le tute di protezione perché ovviamente saranno probabilmente coloro che saliranno a bordo per analizzare la situazione sulla Ocean Viking la situazione di questi 37 migranti che hanno avuto dei momenti veramente molto difficili in queste ultime ore ancora però non possiamo dirvi e non sappiamo con precisione quando sbarcheranno potrebbero essere anche lunghe le operazioni all'interno della nave noi non riusciamo a vederla è ancora a largo ma vediamo abbiamo visto del movimento l'orario previsto è quello delle 8 di sera c'era stato detto inizialmente che forse la nave sarebbe potuta arrivare anche per le 7 e 7 e mezza ma adesso oramai si sta concretizzando l'orario delle 8 forse potrebbe essere anche più tardi noi intanto siamo qui e restiamo anche in attesa del primo cittadino di Ancona Valeria Mancinelli che dovrebbe arrivare anche lei per le 8 di sera intanto però la temperatura si sta abbassando e freddo lo sarà anche per i migranti quando scenderanno quindi speriamo che non si protragga la loro attesa a lungo per ora è tutto linea allo studio grazie grazie a te Laura allora noi attendiamo con te in questa lunga diretta proprio per poter continuare a raccontare dell'attracco della nave poi come giustamente sottolineavi tu ci saranno tutte le procedure inizialmente a bordo e poi queste persone verranno fatte sbarcare per gli screening sanitari come abbiamo detto più volte si prevede ormai appunto l'arrivo previsto inizialmente quindi quello delle 20 come il più possibile avremo modo poi di ricollegarci anche con te per ascoltare le parole del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli che come ci annunciavi è in arrivo ma io a questo punto mi fermerei per il momento per una breve pausa poi ovviamente torneremo di nuovo in diretta per raccontarvi dell'arrivo della nave restate con noi a tra poco a tra poco di un'arrivo